L'ex premier britannico Boris Johnson ha ammesso di aver mentito alla Camera dei Comuni riguardo il cosiddetto Partygate, una serie di feste tenutesi a Downing Street durante il lockdown per il Covid imposto dal suo stesso governo. Ma in un verbale pubblicato oggi, Johnson ha ammesso di averlo fatto in buona fede e ha dichiarato L'ex inquilino di Downing Street sarà messo sotto torchio da una commissione mercoledì che deciderà sull'intenzionalità delle sue dichiarazioni mendaci. In caso positivo, Johnson potrebbe essere sospeso come politico e indette nuove elezioni nel suo collegio elettorale dove detiene una debole maggioranza.